Alena Seredova e Alessandro Nasi diventeranno presto marito e moglie. Ma cosa sappiamo di lui? I dettagli nell'articolo. Alena Seredova e Alessandro Nasi convoleranno presto a nozze. Fonti vicine alla coppia, nelle ultime settimane, avevano assicurato che il matrimonio fra i due fosse ormai vicino. Ma cosa sappiamo del futuro marito dell'ex di Gigi Buffon? Leggi anche, Alena Seredova e Ilaria D'Amico, in che rapporti sono oggi? Come vanno le cose con l'ex marito Buffon? Ecco la verità Alena Seredova pronta per il secondo matrimonio Alena Seredova e Alessandro Nasi sono pronti per il loro matrimonio, la coppia nel 2020 ha dato alla luce la piccola Vivienne Charlotte e sembra proprio che stando a un'indiscrezione del magazine nuovo i due abbiano deciso di sposarsi lo stesso giorno in cui la piccola verrà battezzata. La figlia di Alena e Alessandro non ha ancora ricevuto il sacramento a causa delle restrizioni da Covid-19, ma quest'anno potrebbe essere finalmente quello giusto. Quando ci sarà il matrimonio della Seredova e il suo futuro marito Alessandro Nasi? La data ufficiale non è stata ancora svelata, anche se non dovrebbe mancare molto. Chi è Alessandro Nasi? Alessandro Nasi, erede della famiglia Agnelli, è cugino di Lapo e John Elkan, l'imprenditore è nato a Torino, nel 1974, ma è cresciuto negli Stati Uniti, a New York. La storia con Alena è iniziata nel 2015, un anno dopo l'addio della modella e Buffon. Il matrimonio fra Buffon e Ilaria D'Amico Un'altra coppia che potrebbe presto convolare a nozze è quella formata dall'ex marito di Alena Seredova e Ilaria D'Amico. Nonostante il portiere juventino sia ormai separato da tempo dalla modella della Repubblica Ceca, continua comunque a temporeggiare sul matrimonio con la sua attuale compagna, dalla quale ha avuto anche un altro figlio. Come mai, non conosciamo ulteriori dettagli, ma non mancheremo di aggiornarvi se ne sapremo di più. Seguici su Instagram cliccando qui.